Anche se non arrivo su Veno, l'importante è che ci controlla la girata, come un risco preciso. Asti! Mio. Io non lo so, ma erano i gialli. No, ma erano i due stelle. No, ma erano i due stelle. No, ma erano le scelte. Sì, no! Ma erano le scelte una forza. Ma erano le scelte, era le scelte. Ma erano i due stelle. Ma erano i due stelle. Aiuto! 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 Bravo! Bravo Luca! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti